cari amici tanti saluti da serafino massoni perché l'anti ebraismo questo video si basa su un messaggio di lorenzita 7 9 lorenzita 7 9 la quale dice se si può quali sono le cause dell'odio nei confronti degli ebrei da parte di hitler e c'entra forse il fatto che gli ebrei sono stati i primi patriarchi poi chiede anche quali sono qual è la legittimità dello stato di israele e dice se proprio necessario che un popolo abbia anche uno stato bene allora io rinvio l'amica blogger lorenzita 7 9 a visionare alcuni miei lontani filmati intitolati 1 chi sono gli ebrei 2 ebrei e palestinesi 3 semiti e antisemiti 4 quale limite e gaza quale limite allora uno dei libri più belli e più interessanti sulla lanti ebraismo attenzione non dico antisemitismo perché semiti sono sia gli ebrei che gli arabi sull'anti ebraismo lo ha scritto lo stesso ebreo Sigmund Freud l'uomo Mosè è la religione monoteistica un capolavoro e sono spiegate molto bene le ragioni per le quali gli ebrei in un certo senso sono sempre stati mal visti perseguitati o mal visti e Sigmund Freud non si limita solo all'epoca cristiana ma va indietro va anche all'epoca pagana anche in epoca pagana in epoca politeistica c'era una certa versione nei confronti degli ebrei e senza entrare nei dettagli storici c'è da dire che effettivamente l'ideologia ebraica monoteistica monoteistica patriarcale con la famiglia monogamica patriarcale la proprietà privata ha conquistato tutto il mondo per quello che mi concerne l'ideologia patriarcale nasce proprio nell'universo ebraico e sono parole di Sigmund Freud l'ebraismo si pone a livello mondiale come il superio non il superuomo è il superio il superio psicoanalitico questa ideologia così rigida si pone a livello mondiale in maniera da collocarsi appunto come il superio come la ragione che controlla le pulsioni l'universo, la popolazione percepisce questo nell'ebraismo questa superiorità della ragione che si impone sugli istinti e sulle passioni Hitler ma le nefandezze compiute dal nazismo nei confronti degli ebrei con il loro sterminio nei campi di concentramento avevano già le loro basi e purtroppo lo dico nel mondo cristiano perché i ghetti non sono stati inventati da Hitler i ghetti sono stati inventati nel medioevo ma lo stesso Martin Lutero ha usato nei confronti degli ebrei parole terribili poi lo stato di Israele e gli ebrei hanno diritto hanno diritto a un loro stato come ci hanno diritto i palestinesi questo l'ho scritto, l'ho detto nel video ebrei e palestinesi hanno diritto a un loro stato di ebrei come ce l'hanno anche i kurdi verrà un giorno che ci sarà una patria per i kurdi va bene, io non posso prolungarmi oltre perché lo spazio non me lo consente consiglio all'amica blogger di magari leggersi in una biblioteca comunale questo capolavoro Sigmund Freud l'uomo Mosè e la religione monoteistica e qua la blogger vedrà come uno stesso ebreo va a fondo nei problemi che riguardano l'anti-ebraismo va bene cari amici grazie grazie a Lorenzita79 grazie a tutti voi e tanti saluti da Serafino Massone